Francesco e Selvaggia – Temptation Island Francesco e Selvaggia – Temptation Island, cosa è successo con Simona Ricordo, sembra proprio che i suoi protagonisti non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E tra questi chi sta facendo molto discutere in rete è sicuramente la ex coppia formata da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. . Difatti, i due piccioncini, una volta finita l'esperienza al reality show più piccante della stagione estiva, si sono detti addio. Ovviamente, nemmeno a dirlo, le polemiche su social sono state numerose. . E molti protagonisti del reality hanno voluto dire la propria. Tra questi l'ultima che ha rilasciato un'intervista al noto settimanale Spy, volendo parlare dei due ex innamorati, è stata la ex tentatrice Simona Solimeno. . Difatti, pare che un like di Francesco a una sua foto su Instagram abbia fatto ingelosire Selvaggia. Motivo per cui i due si sono lasciati. . E proprio per questo la giovane ex corteggiatrice di uomini e donne ha voluto dire la sua su Spy, asserendo senza tanti mezzi termini. . . Selvaggia ha sbroccato perché Francesco mi ha lasciato questo famoso like su Instagram. Sicuramente loro hanno dei problemi di fondo che il programma ha amplificato. Ma non è finita qua. . . Francesco Chiofalo è selvaggia Roma dopo Temptation Island, la rivelazione di Simona. Difatti, Simona Solimeno è sembrata essere davvero un fiume in piena. E sempre nell'intervista rilasciata al noto magazine Spy ha aggiunto di aver parlato con entrambi, dopo la rottura, dichiarando. . . Entrambi, poi, mi hanno chiamata e hanno confermato questi loro continui problemi di gelosia, scagionandomi. . In pratica pare che tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma ci siano stati altri problemi, e con tutta probabilità quel famoso like sia stata solo la classica goccia ad aver fatto traboccare il vaso. . Motivo per cui i due si sono detti addio per sempre. In effetti hanno mostrato fin dall'inizio della loro partecipazione a Temptation Island 2017 di avere diversi problemi. . Problemi però che sembravano essere ormai un ricordo lontano. E, invece, ecco arrivare questo clamoroso colpo di scena, che ha lasciato tutti i loro numerosissimi fan a bocche aperte. . Ma sono in tanti a sperare che i due possano chiarirsi e tornare finalmente insieme nel nuovo confronto previsto nelle prime puntate di Uomini e Donne la prossima settimana. . . Insomma, dopo che Desiree ha difeso Selvaggia, ecco arrivare questa ennesima rivelazione. Riuscirà Maria De Filippi a farli ragionare? . 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